musica sto usando la texture sempre l'amato 6 solo la versione v3 ovvero quella giornata quindi basta la cercate su google e la trovate ovviamente ci troviamo sulla mappa della giungla se non sbaglio si perchè qua ci sono questi alberelli belli giganti e l'hack se vai attorno all'isola praticamente c'è una sorta di pilastro dove potremo scavare perchè è pieno di ferro come siamo contro chris soprattutto ragazzi in lobby ci sono dei fan uno è in squadra e l'altro è contro quindi spero che non si vendichi comunque facciamoci qui il piccone prendiamo subito la stone non ho idea di quali sono i fanlack tu c'è la lista completa e ovviamente ragazzi le invito a lasciare tanti pollici in su per sostenere questa serie comunque raccogliamo qui la magica stone e dobbiamo sbrigarci a prendere quel ferro perchè di sicuro sono tutti molto aggressivi nel raccogliere l'acqua la raccolgo io tu non hai capito c'è una sorta di isoletta solo che non ci si può andare quindi dovrei attraversare l'acqua per andarci e ci provo in caso perdo un cuore ok no non ho perso niente comunque ragazzuoli io sto usando il kit del dextructor ho trovato anche il diamante ovvero il kit che dopo la fase questa qua preparativa ti permette di tirare delle enderpearl che distruggono la materia ed è una figata assurda se non l'avete mai visto guardatevi questo video si racco ho bisogno di una presentazione per questo kit potente quindi distruggono la materia e penso sia la cosa migliore comunque tu che kit stai usando quello della TNT? quello di all'acqua ok a posto comunque io ho trovato ben tre diamanti adesso salgo subito sopra a prendere l'altro ferro e soprattutto ragazzi abbiamo notato con l'acqua perché sta qua nella prima partita che facciamo oggi che hanno messo finalmente l'anti x-ray ovvero l'anti shit di quel shit che ti permette di trovare le risorse qualcuno mi sta fregando tutto di risorse me l'hanno fregate già sicuro tutti i ferro che era qua me l'hanno stillato legend master sei una persona bruttissima vabbè questo ferro cioè questo diamante che abbiamo trovato ci facciamo immediatamente la spada tanto non riusciremo a trovare altro tac hai trovato diamante? no ho trovato diamante non conosco luca i blu stanno facendo una cosa che piace al mio kit stanno facendo un'isola sì perché praticamente col mio kit se non l'avete visto tiro una ender pearl che se colpisce ne so una cosa volante la fa cadere quindi rippano non glielo dire l'hack che faranno tutti una brutta fine non lo so non lo so sono i blu hanno detto stiamo facendo un'isola volante a sky a sky island a sky base perfetto non aspettavo altro ragazzi comunque l'hack è trovato bel uno di ferro due di ferro e basta due di ferro ho trovato vabbè continua a sfondare qua tutto dopo riuscire a mettere qualcosa soprattutto ragazzi io devo per forza fregare le risorse agli altri che con sto kit cioè non mi aiuta nel formare all'inizio mi aiuta soltanto nella fase pvp quindi io devo cercare di essere fortunati oggi dai ferro 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 tanto ferro sul tetto aspetta piglia 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 comunque mi sembra che abbiano modificato anche la quantità di ferro che si può trovare qui c'è l'uscita ok segniamocelo perché me lo ricordo c'è uno non fa anche il lag del nostro team ed è no non è del nostro team ha la tag titan quindi l'avevo confuso non ce l'ho manco posso dire il mio team voglio mettere le torce dove vedo buio perché mi fa paura il buio qui c'è l'acqua e soprattutto se mi metti in terza persona uh posso vedere che c'è del ferro c'è uno già full ferro dei nostri ma se è full ferro che cosa vuole scusa attimo ragazzi prima che ci cade l'acqua non possiamo più raccogliere sto ferro oddio quanto ce n'è ok ragazzi è pieno pieno di ferro qua ok ho trovato tutto quello che mi serviva forse il full ferro ti vuole dare il suo ferro l'acqua devi pensare forse che sia una persona negativa aspettate prima devo prendere ma dove stai scavando nell'acqua e ho trovato praticamente 8 di ferro no ok questo è mio ok e ho trovato ben 9 di ferro l'acqua 2 di ferro io lo tieni te l'ho passato e poi non dire che non sono una persona gentile in medio di ferro sono vabbè io vado alla ricerca degli animali va il nostro full ferro si stava per suicidare nell'acqua si è buttato a pesce uh è pieno di animali qua ecco perché ci stanno andando i full ferro vabbè è qua sopra nel settore sopra c'è tipo una sorta di colonna che qua c'è una mucca ma da dove spuntano questi animali che prima non c'erano là è pieno di animali ragazzi ma non penso di arrivarci perché c'è quel full ferro che è abbastanza crudele nei loro confronti e l'acqua dove c'è la casetta sulla montagna qui c'è un maiale due mucche si è generato il ponte eh il maiale è caduto in acqua ma che culo c'hanno gli animali anche la ma andate a cagliare tutte e due non ci posso credere ma prima non c'era ci sono passato a lì secondo me sforano a caso comunque l'acqua un attimo mettiamole a cucinare ma questi sono di ferro eh perché forse non c'è da controllo ma nessuno comunque un attimo fammi sciogliere questo coso e poi andiamo subito a lottare no no fammi cuocchere questo quarto di ferro eh anche io lo devo cuocchere c'è un lucas che ti ha buttato il ferro da sopra ma io li amo tieni un barbone ci siamo diventati ricchi alla fine vabbè ragazzi tanto dobbiamo aspettare qua che si genera il ponte quindi possiamo aspettare comunque lucas è un mio fan giusto? o no? ok non so l'italiano però io ho la doppia seismic Sergio quindi possiamo per un attimo è il team non è che l'ho tirata a casa infatti comunque allora c'è il team azzurro che ancora ve lo ricordo che è inizio della partita esatto ci sono fatti l'isola si ragazzi guarda come sono carini li butto tutti giù comunque noi siamo il team rosso ok vuol c'è uno dei nostri che sta rischiando la vita no l'ha ammazzato sono quasi di ferro cavolo è morto uno dei nostri è così è caduto in acqua è caduto ancora in acqua ci muore malissimo ok è morto il nostro l'hai visto il nostro come è messo l'hav? ah la chasepli di diamante e le scappette di diamante il one av si lo so che fanno l'hav vieni che facciamo una cosa divertentastica dopo arrivare sono full tutto e noi siamo dei blu gli tiro così tante ender perché se le ricorderanno a vita però mi devo avvicinare ragazzi perché non voglio failarle l'hav tu mi vedi dove sono? no no aspetta poi lo sto arrivando però non sono tutti là sopra l'h veloce manchi solo tu siamo in quattro qua ad assaltargli il castello devi correre correndo dove sono i blu? eh non lo so c'è la bandiera ah l'avevo visto stiamo andando stent vabbè è uno schifo quella cosa sì ma non sono sopra loro non capisco perché cioè l'hanno fatta però sono scesi tutti qualcuno si ah no qua c'è il castello ragazzi no ho colpito la cosa sbagliata no ragazzi ho colpito sto posto eh vabbè appena si girano le ender però ragazzi faranno tutti una brutta fine tanto ogni 10 secondi uno vuole una spada di diamante eh eh no ce l'hanno tutti penso ok lak lak tak e ora la vostra casetta che fine fa non ve l'aspettavate sto kit ragazzi sono spiegato le due ender per se è stato tutto molto più faico però lak aspetta aspetta non gli pushare ti prego no 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 tranquillo fratello mio non morirci guarda io voglio spondare aspetta aspetta glielo spondo appena si carica carica la trender perl e ora gli spondi all'altra parte che rimane no è morto uno dei nostri è morto no c'è un bloc è caduto full nudo ok c'è morto no non ci posso credere lak secondo me è morto per colpa tua attento che c'è una destra lak aspetta lak che lo butto giù io tac tu 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 è caduto giù è una figata ragazzi sto kit mi diverto come un bimbo no 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 fermo 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 è Mr. Chris non uccidono non uccidono io non l'uccido devi dire agli altri no 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 lak non ti sentono comunque ragazzi come vedete l'acqua è fighissima questa nuova texture una figata assurda ok io ho la cespli di diamante del fan quindi ce l'ho ancora nel cuore caro fan come si chiamava av si ciao av l'hanno ammazzato lak scende giù che tanto Mr. Chris è l'unico del blu adesso dobbiamo ammazzare due verdi un giallo e abbiamo vinto la partita non lo so se l'hanno ucciso no no è ancora vivo è l'unico alive del blu lak ci tradirà e ci ammazzerà tutti spero per lui di no lak scende giù ti sto aspettando è uno emita bisogno di cibo aveva dal centro vediamo se c'è qualcosa sono al centro nelle cesto aiutare se è rimasto qualcosa ho la cesta di diamante e le scappette di diamante e poi vieni Luca sono strada in diamante c'è un'altra isola spero ragazzi che sia abitata sì è abitata sì 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 mi piace troppo smantellare le isole lak vieni veloce nell'isola dei verdi ecco la dritta dove siete ora sì basta le aspetta che mi fanno sì sì le aspetto le aspetto eh lak tanto ce n'è solo uno non siamo al centro no c'è Savi sì sì quella quella mele è convinta no non è il centro questo lak che stai a dire le butto giù lak no di un ma andata da cagare di un colpo non l'ho preso aspetta folle aspetta guardalo è divertente sto kit ragazzi è la cosa più bella che abbia mai visto in vita mia mi sono buggato però nei blocchi ok è morto l'hanno caduta sì è morto è troppo bello sto kit io non ce la faccio non resisto devo usarlo per forza in ogni video lak è rimasto siamo 6 rossi contro defender è morto Savi sì è morto pure no Savi c'è ma non me lo dà nella lista no non lo dico è morto quello che non dovevano ammazzare sì 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 questo è morto ma chi l'ha ammazzato scusa uno dei nostri sicuro è rimasto il verde andiamo con la bussola spero che sia in un'isola con tutto il cuore raga ma le mele killano se ah non lo sapevo l'h questo qua ci ammazza tutti con la kill ora te lo immagini ok è a 88 blocchi di distanza sarà tutto sotto terra no i cani lì sono dei gialli è qua aspetta folla sì sono qui sto cercando di capire dov'è non dice che è sotto terra ci dice che in questa parte ragazzi 20 ah Luca vieni vieni veloce veloce no 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 ti fa una brutta fine no devo farlo per forza se no questo qua scappa si era fatto una piattaforma ma non ha capito nulla non ha capito nulla oddio ragazzi è stata una partita epica cioè questo kit non lo so è troppo bello l'abbiamo massacrati e ovviamente grazie a tutti grazie anche ai fan che ci hanno supportato vi invito a lasciare tanti pollici su per il prossimo episodio e ci becchiamo domani con due nuovi video almeno si spera ciao ciao ragazzi